ciao a tutti ragazzi benvenuti sul mio canale avete anche voi dei segreti? oggi noi costruiremo una cassaforte sì! con le mie sorrille abbiamo costruito questa specie di cassaforte qui inseriamo una combinazione qui c'è arduino con la breadboard e qua c'è la serratura in questo poc vediamo come dovrebbe funzionare la cassaforte adesso che abbiamo alimentato la scheda la vediamo in funzione vediamo come funziona adesso la serratura è chiusa perché il led è rosso ma vediamo cosa succede se mettiamo la combinazione giusta ok adesso inseriamo la combinazione è difficilissima per chiudere la nostra cassaforte bisogna schiacciare rasterisco guardate un po mettiamo un codice caldo e la serratura non si sblocca tipo 486 non si sblocca se noi ci mettiamo un due o tre funziona guardate 1 2 3 la parte più difficile è stata collegare tutti questi fili nell'ordine giusto e queste resistenze per i led con cui ci siamo aiutati con la pinza il codice che abbiamo utilizzato per far funzionare l'aduino abbiamo tratto su internet e poi l'abbiamo personalizzato ci vediamo sul mio canale vi piace tutti i link in iscrizione ciao